Sì, probabilmente la Madonna non si sarebbe offesa se questa rubrica stavolta l'avesse intitolata la Madonna sdoganata. In effetti era l'intendimento, però dopo ho detto andiamoci piano, siamo anche nel mese di maggio, qualcuno potrebbe interpretarla male. E allora diciamo il santuario sdoganato. Sdoganato vuol dire tirato fuori dalla dogana, reso libero quindi. Di che cosa si tratti, brevemente forse qualcuno ha sentito o ha letto che in questi giorni c'è stata una dichiarazione che viene dal Vaticano, che viene quindi dal Papa stesso, anche se è stata fatta dai suoi collaboratori, per cui il santuario della Madonna a Medjugorje è stato sdoganato nel senso che si possono organizzare pellegrinaggi a quel santuario. Io adesso qui il Don Mauro che è parroco, ha il sentore, l'odore delle pecore e quindi capisce bene cosa gira. La prima domanda che gli voglio fare, anche per capire anche da parte vostra, ma questa è una notizia, secondo te, dal punto di vista della nostra gente, dei nostri paesi, delle nostre valli o è una notizia che scivola via senza alcun significato e raccolta praticamente da nessuno. Ma devo dirti che domenica, festa della mamma, vigilia della memoria dell'apparizione della Madonna Fatima, alcuni miei parrocchiani sono venuti a dirmi, hai sentito Don Mauro, il Papa ha dato il permesso di organizzare i pellegrinaggi a Medjugorje, ma non perché prima non ci fossero i pellegrinaggi, pare sia una delle mete davvero più cercate e abitate anche dalla nostra gente. Però quando venivano qualcuno a domandarci organizziamo un viaggio a Medjugorje, noi preti, giustamente, stando a quanto ci veniva anche detto, magari ci andavamo, però non era la parrocchia che organizzava, quindi era quel gruppo A, quel gruppo B. Invece domenica mattina la notizia del Papa è arrivata non solo attraverso i giornali, ma attraverso le persone che hanno saputo e sono venute a dirci organizziamo il pellegrinaggio a Medjugorje. La seconda domanda facile che posso farti, cosa cambia? Per cui ecco c'è notizia, per un certo verso c'è, poi magari ne diciamo alcune cose, ma in effetti concretamente cosa cambia? Ma concretamente abbiamo il parere di Papa Francesco che tra l'altro sappiamo essere un devoto alla Madonna, è molto mariano Papa Francesco, a prescindere poi dalla battuta che ha fatto due anni fa, tornando dal viaggio appunto a Fatima, la Madonna Postine, quindi gli affezionati a Maggiugori si erano un attimino allarmati di questa affermazione del Papa. Forse cambia a Doleone il fatto che il Papa ha riconosciuto che questo santuario, a prescindere dalla veridicità delle apparizioni o no, è stata aperta una commissione con il Cardinal Ruini, voluta da Papa Benedetto XVI, però a prescindere dalle apparizioni il Papa ci dice questo è un luogo dove puoi incontrare Dio, dove i frutti dello Spirito si possono raccogliere perché sono sotto gli occhi di tutti. L'articolo che io appunto ho letto, appena i miei parocchiali mi hanno detto questo, sottolineava proprio questo a Maggiugori, lo Spirito Santo riempie le celebrazioni, ci sono code ai confessionali, ci sono persone che vanno e sentono un'attrazione, quindi una conversione maggiore alla vita spirituale e quindi il Papa appunto ha dato quasi l'ufficialità che questo luogo è veramente un luogo non tanto riconosciuto per le apparizioni quanto un luogo dove uno può vivere un'esperienza spirituale forte. A prescindere, a prescindere dalle apparizioni, qui dovremmo da una parte vedere se chi ci va, soprattutto certi devoti spinti vanno a prescindere, anche perché le modalità allora devono avere una certa caratteristica, perché ci sono di quelli che vanno ancora a fare le fotografie vedendoci dentro qualche brandello di Madonna e ci sono quelli che salgono sulla collina delle cosiddette apparizioni come se eccetera, per carità, ciascuno poi ha la sua libertà anche personale, ci mancherebbe, però a prescindere che è un po' problematico, dall'altro a prescindere, tu citavi la commissione che Papa Benedetto XVI aveva istituito, guidata appunto dal Cardinale Ruini, che aveva un pochettino tirato delle conclusioni che onestamente avevano lasciato perplesso, probabilmente anche il Papa stesso, posso supporre, perché dice che le prime apparizioni potrebbero, le altre no, a me fa venire un pochettino il dubbio perché dice questi qui, che sono sempre gli stessi, o hanno raccontato balle prima, scusate, o hanno raccontato balle dopo, cioè la cosa o è o non è, quindi questo a prescindere non è proprio così semplice da prendersi in mano. Certo, e mi è fatto piacere, ripeto l'articolo, dico anche letto dall'Avvenire, dove appunto i collaboratori del Papa facevano appello a tutte le guide spirituali dei pellegrinaggi in generale, e quindi adesso anche dei pellegrinaggi organizzati a Maggiugori, quell'attenzione all'ortodossia della fede, e quindi si va a Maggiugori per incontrare il Dio Uno e Trino, si va a Maggiugori perché la misericordia divina ti possa abitare, tu possa sentirti un figlio amato nel sacramento della riconciliazione, si adora l'eocarestia. Ecco, se vai invece per altri motivi, appunto come quelli che dicevi tu, o se quell'esperienza risulta un'esperienza più che spirituale, un'esperienza puramente emotiva che vai alla ricerca del sensazionale, e poi quando torni a casa non vivi più magari la tua fede all'interno della tua comunità, non dai più la testimonianza che magari hai colto dai tanti pellegrini Maggiugori, allora capisci bene che quel a prescindere diventa direi fondamentale, quindi vado per un'esperienza fondamentale di fede dove la Madonna sicuramente è strumento, è mezzo, è lei che ci porta dal suo figlio, questa è la teologia del Monfort, ma se mi fermo lì o se mi fermo solo ad alcuni segni particolari, o se la mia fede si accende a Maggiugori e appena lascia Maggiugori si spegne, capisci che c'è qualcosa che non va. Tra l'altro Papa Francesco nella lettera apostolica, nella lettera postinodale ai giovani, ricorda che uno dei luoghi privilegiati, amati dai giovani, sono proprio i pellegrinaggi. Ho collegato queste due cose, quindi dico benvenga che il Papa ci abbia detto questo è un posto dove potete andare per rifare il lifting alla vostra vita spirituale, per vivere un momento forte della vostra vita, a prescindere, perché se ci vai solo per quello, naturalmente come mai prima no si diceva e adesso sì, forse qui dentro c'è tutta la prudenza davvero della Chiesa perché la gente che deve coltivare la pietà popolare, ripeto, non vada dietro a segni che possono essere autentici, possono essere veri. Ho un confratello che mi dice sempre Don Mauro, la Madonna può fare come vuole, questo è verissimo e non mettiamo limiti alla Madonna, ci mancherebbe altro. Mettiamo limiti alla nostra intelligenza e soprattutto alla nostra capacità di entrare in quei segni, in quei gesti che il Signore ci ha dato, tra cui anche Maria, ma non dobbiamo fermarci lì. Volevo chiederti, tu sei stato ancora a Meggiugorje? Sono. Se ci sei stato allora la tua esperienza personale o quella di quel tuo amico lì dove arrivano e che cosa comportano e porta indietro? Guarda, io ti racconto la mia esperienza personale, ci sono stato più di dieci anni fa la prima volta e adesso qualcuno mi... ma ci sono andato da scettico, mi aveva obbligato ad andare l'ex curato di Clusone, Don Claudio Dolcini, mi aveva proprio obbligato ad andare. Ci sono andato e come tutti controllavo, vedevo se c'erano delle persone esagitate o... Poi quando sono arrivato là io mi sono lasciato catturare invece da un'altra atmosfera. Mi sono commosso per le ore e ore e ore di confessionale che ho fatto come ministro della confessione, poi mi sono messo in coda anch'io. Mi sono stupito del silenzio, ma abitato veramente dalla preghiera davanti all'adorazione. Le celebrazioni eucaristiche dove, credimi, i frati francescani che guidano la parrocchia di Maggiugori durante le omelie, omelie belle, alte, ma anche molto bacchettone sulla propria conversione, sulla vita spirituale. E devo dire che sono andato da scettico, non ho visto il sole che ballava, non ho visto la Madonna che si muoveva, non ho ricevuto nessun messaggio, però sono tornato a casa edificato davvero dalla spiritualità che ho respirato e dalla bella testimonianza che ho ricevuto da tante persone. Ma per caso quel tuo amico lì è un prete che si è convertito, dice di essersi convertito perché è andato a Maggiugori e per caso lo sto orbagliando? Allora non è lo stesso prete Don Leone, c'è un fratello che andando a Maggiugori si è talmente convertito, ha sentito la bellezza della vita spirituale e ha fatto della sua vita una scelta, quella di diventare prete sulla spiritualità mariana. Quando io per esempio lo sento predicare, naturalmente mi affascina molto il fatto che, allora molto evangelico, ortodosso, ma alla fine appunto il messaggio della parola lo racchiude in un insegnamento di Maria ed è molto bello questo. Quando noi diciamo che la Madonna è la vera credente per eccellenza, davvero la Madonna ha tradotto nella sua vita il Vangelo. Io quando dico così sorrido perché sembra dire la Madonna di Maggiugori e le altre è la stessa Madonna. Anche perché qui è bello pensare appunto che il senso di questa dichiarazione del Papa è che questo luogo può essere appunto un luogo di spiritualità, di preghiera. Appunto, uno dice io vado a Lourdes, io vado al santuario di Caravaggio, io vado al santuario di Adro, alla Madonna della Neve. Un altro potrebbe anche dire io vado anche in cima alla Presolana. Nel senso che ciascuno di noi ha bisogno di qualche riferimento per la propria sosta, per tirare il fiato, per rifarsi un pochettino la vita spirituale, per riprendere a guardare alto sulla vita. Certo, dove c'è dentro un po' più di senso, direi che la cosa forse torna un pochettino meglio. Proprio per non diventare eccessivamente partigiani di questo, di quest'altro, di quest'altra Madonna che poi alla fine è sempre quella. Ecco, il senso della dichiarazione del Papa che ha liberalizzato i pellegrinaggi a Medjugorje dicendo chi ci va, vada pure anche accompagnato, le parocchie pure organizzino, non c'è di mezzo il discorso riconoscimento o non riconoscimento di apparizioni, però si dice è buon luogo dove uno può rifarsi spiritualmente. A questo proposito, tornando a casa nostra, anche il nostro Vescovo ultimamente ha fatto una dichiarazione similare per quanto riguarda la Madonna delle Ghiaie. E qui credo che tanti in Bergamasca e anche sul Bresciano sappiano che alle Ghiaie di Bonate, 1944, la Madonna, secondo la testimonianza di quella ragazzina dell'Aide, sarebbe appunto apparsa, e addirittura con dei segni esterni confermati da migliaia di persone che pur in tempo di guerra erano accorse in quel periodo lì alle Ghiaie di Bonate. Sappiamo che il Vescovo Bernareggi dice non costa che sia accaduto un fatto soprannaturale, eccetera, quello che è certo però è che anche lì, in questo piccolissimo, neanche santuario, proprio la cappelletta alle Ghiaie di Bonate, notte e giorno c'è sempre qualcuno. E c'è qualcuno che prega, c'è qualcuno che sta in silenzio e così via. Cioè parallelamente direi in fondo anche quello che ha detto il nostro Vescovo per quanto riguarda le Ghiaie è sulla stessa linea d'onda allora. E devo dirti, tu eri presente all'Assemblea perché ha dato la notizia, allora era l'Assemblea dei Vicari, il Consiglio Presbiterale di Ocesano, quando il Vescovo poi ha letto tutto il decreto che poi è stato pubblicato, mi ha in un certo senso, allora anche qui vedi, commosso ma nel senso quasi che il Vescovo, poi il Papa, ci dicono che, come ricordavi tu, abbiamo bisogno di alcuni proprio luoghi fisici un pochettino particolari, ma non perché ci siano dei luoghi di serie A e dei luoghi di serie B. Io nella mia piccola ma bella parrocchia di Fino del Monte ho l'altare dell'Addolorata e quindi quando vado in chiesa uno sguardo, la devozione alla Madonna, ci mancherebbe altro. Però questi luoghi, come dicevi anche alle Ghiaie di Bonate, dove tra l'altro anche lì la gente ci andava comunque, non si organizzavano magari dei pellegrinaggi parrocchiali, ma so che tante persone anche della nostra zona partiva per scendere, diventano luoghi significativi sicuramente per quello che magari è successo, ma diventano luoghi significativi perché voi i preti che strutturano quel luogo con delle celebrazioni, con delle preghiere, ma soprattutto voi la testimonianza davvero di altre persone, perché questo fattore a volte lo diamo per scontato. Quando tu prima mi hai chiesto di Maggi Gori, ecco io alle Ghiaie di Bonate ci sono andato una volta, ma tantissimi anni fa, però io quando sono andato a Maggi Gori, Don Leone, quello che mi ha edificato, oltre come dicevo prima, i momenti di preghiera, i sacramenti, le celebrazioni della confessione, eccetera, eccetera, è stata proprio la testimonianza delle tante, tante, ma veramente tante persone, ed è come quando vai in montagna, se vai in montagna da solo, sì, puoi essere appassionato, però qualche volta il rischio magari è quello di tornare indietro. Se vai anche solo in due, in tre, in un gruppetto, anche se sei stanco, il gruppetto ti porta su. E mi piace questo riferimento, io sono particolarmente legato a Lourdes, quando vado a Lourdes prego come compremo a Fino del Monte, ma il luogo, la spiritualità, gli ammalati, la grotta, mi fanno vivere quei due o tre giorni che mi ricaricano per poi continuare la mia vita ordinaria. Pellegrinaggi ai santuari dei Santi della Madonna, probabilmente è una cosa, credo, importante, questi pellegrinaggi forse vanno un po' preparati oggi, ieri i pellegrini andavano a piedi, avevano tutto il tempo di prepararsi e come, quando si andava anche un po' lontano, non so, con un pullman pure. Oggi, appunto, tu dicevi Lourdes, nel giro di due orette parti da Fino del Monte e sei a Lourdes, rischi di essere traslocato senza neanche rendertene conto. Ecco, io penso che oggi le nostre parrocchie debbano valorizzare i pellegrinaggi come cammini, come momenti, appunto, di rivisitazione della fede, della devozione, ma credo che vadano abbondantemente preparati e ben condotti perché non siano, appunto, delle, passatemi il termine, semplici o mezze gite. Sì, senza ombra di dubbio. I pellegrinaggi improvvisati, per carità di Dio, poi l'esperienza te la fai, ti porti sempre a casa qualcosina, però i pellegrinaggi organizzati, quando dico organizzati vuol dire preparati, ti mettono in movimento ancora prima di partire fisicamente. Poi magari sarà le due ore, perché adesso con l'aereo raggiungi subito Lourdes. Può essere anche un piccolo pellegrinaggio che uno fa a piedi, però se è preparato, cioè se io vado alla ricerca della motivazione, del perché lascio, cammino, raggiungo, non tanto cosa voglio portare, ma questo camminare mi prepara ad accogliere quello che Dio vuole regalarmi e poi questa cosa qui, magari se non si fanno le cose in fretta, me la maciono un attimino dentro, quindi me la porto a casa, me la rivivo, me la rigusto. Allora davvero il pellegrinaggio diventa una possibilità bellissima del proprio cammino spirituale. Tempo di maggio, tempo dell'estate prossima, come persone, come famiglie, la nostra realtà anche bergamasca e bresciana è ricchissima di santuari, per cui noi diciamo Lourdes, Fatima, adesso appunto Medjugorje eccetera, però direi anche chi non può o non ha la possibilità di andare chissà dove, non è bello forse ecco che l'estate o il maggio le nostre comunità, le nostre famiglie possano un po' fare queste fuori porta spirituali. Sì e addirittura a volte resto per esempio stupito, non so mi viene in mente così facciamo un po' di pubblicità, la Madonna del Frassino a Oneta, mi è capitato l'estate scorsa di salire due volte, una volta per una compagnia di amici che festeggiavano il compleanno e di vedere sui tavoli fuori dal santuario proprio delle famiglie, delle famiglie, poi al suono della campana ho visto che entravano a celebrare l'eucaristia e quindi è bello questo, uno perché dobbiamo dire che i nostri santuari sono anche collocati, tanti dei nostri santuari sono collocati in zone meravigliose, altri perché i nostri santuari proprio dal punto di vista anche artistico sono bellissimi, oltre naturalmente alla storia e quindi alla fede, alla spiritualità che questi santuari raccolgono. Ricordo quando ho fatto restaurare l'altare della Dolorata fino a Del Monte, una signora che mi diceva oltre al legno o gli angioletti o alla nicchia dove abbiamo inserito la statua della Dolorata, chissà quante preghiere, quante lacrime, quante preoccupazioni questo altare, la Madonna ha raccolto nell'arco di questi anni e questo è molto molto bello. Paolo VI diceva i santuari possono essere le cliniche dello spirito, cliniche per la guarigione, cliniche per essere sostenuti, incoraggiati, confortati, cliniche della fede anche per ritrovare il senso vero e la bellezza dell'essere cristiani perché la Madonna e i ci indirizzano a Gesù Cristo, questo sia chiaro, si va da Maria che ci dice fate quello che lui vi dirà, si va dai santi perché i santi dicono guarda che io ho preso esempio da Gesù Cristo, alla fine tutto di questo deve essere orientato lì, a incrociare la storia di Cristo, a riconoscere la sua presenza, a farsi sostenere dalla forza del suo spirito per una vita buona. Credo che sia questo il senso appunto di qualsiasi pellegrinaggio. Vado a chiudere, l'altra volta ho salutato un pochettino i miei paesani della Val di Scalve in occasione del Triduo dei Morti, questa volta saluto un po' diverse persone che ho incrociato ultimamente a Villadogna in occasione della festa del Beato Alberto e grazie per il loro apprezzamento di questo nostro pur modesto servizio di Mare Nobiscum, tutti che dicono lo seguiamo volentieri, andate avanti, cerchiamo di andare avanti e così oggi ringrazio Don Mauro che ha collaborato, come ringrazio voi che ci seguite e Antenna 2 che ci permette appunto questo incontro settimanale e come sempre a tutti voi l'augurio di una buona domenica.